Il suo signore è venuto con il primo e il senso Varsco. Il suo signore di città, e insomma, perché il suo signore è venuto a cura di città. Il suo signore è venuto a cura di città! Il suo signore è venuto a cura di città! La mia nero è fumo, non è che vanno a cura di rama, la auto, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.